ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questo video lo faccio per ringraziare tutti quanti veramente perché stiamo crescendo velocemente tantissimo quindi vi ringrazio tutti i nuovi iscritti e chi si è iscritto dall'inizio chi ci segue veramente un grazie di cuore questo video e sarà lo speciale 800 iscritti e per questo ho scelto un video un po particolare che non avevo mai fatto sul canale prima d'ora appunto perché visto che un traguardo comunque abbastanza importante per noi ho scelto abbiamo scelto questo mi sono consultata con loro e hanno detto di sì e dietro a questo poi verranno altre cose che vi racconterò ma più in là quando sono da sola perché sennò adesso poi mi sentono e niente praticamente vi faccio vedere qui ho un pacchetto mi è arrivato un pacchetto da amazon lo apro allora ecco guardate un po cosa c'è dentro questo bellissimo pacchetto il calendario dell'avvento della boulevard de beauté aspettate che chiedo non è che si dice boulevard de beauté sì perché mi sembra francese ma però è concepito in germe questo qui della boulevard de beauté e allora ho pensato di fare questo tipo di video che ho visto che le grandi youtuber che seguo stanno già facendo che è di aprire il calendario dell'avvento di questa marca insieme a voi adesso vi dico subito il prezzo allora questo qui costa 21 euro e 17 centesimi su amazon vi lascerò qui sotto il link se per caso vi piace quello che troviamo lo volete poi andare a prendere anche voi l'ho fatto come speciale 800 iscritti anche per sapere se vi piace questa tipologia di video perché se vi piace ve ne porterò altri sempre così dove scartiamo calendari dell'avvento di beauty non beauty adesso vediamo anche se troviamo magari a prezzi accessibili volevo stare sotto i 40 euro quindi scartiamo i calendari dell'avvento sotto i 40 euro anche magari di cibo vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare comunque di beauty e non beauty diciamo per bambini ne ho trovati parecchi quindi direi di cominciare da questo qui allora il pack devo dire che è veramente molto carino con questa renna qua che salta ecco diciamo che questo pezzo invece dove si vedono già i prodotti che sono dentro io l'avrei evitato perché così si rovina la sorpresa no? è vero che non sai quando lo trovi però sai già che lo troverai e quindi diciamo che questa parte qui io l'avrei evitata ecco però questo qui è da levare certo un collo qui ecco si leva ecco diciamo che io l'avrei lasciato così e questo non l'avrei messo comunque iniziamo subito non andrò in ordine così se per caso lo vorrete ordinare ve lo vorrete prendere non mi si rovina poi più di tanto la sorpresa quanto fa più di da allora quindi cominciamo subito ad aprirlo le caselline comunque tanto non sono in ordine quindi partiamo dall'alto e vediamo subito che cosa c'è in questa prima casellina allora sembra una cosa interessante oh bello guardate è un mascara mi piace molto come è fatto qui in cima col sciocchietto e vediamo un attimino com'è dentro lo spazzolino no è normale è normale quindi come prima cosa già un mascara è molto molto bello no non lo puoi prendere tu questo ancora no è da 15 ml e niente molto molto carino anche il pack è veramente molto bene allora passiamo subito alla seconda casellina sì però nel tuo caso non mi viene a farci oh qui c'è una cosa piccina che devo riuscire a tirarla fuori adesso capisco quando i youtuber dicono che è difficile come fanno quando hanno le unghie lunghe non lo so mi riesco a tirarla fuori aia mi sto facendo male tu ridi ma io mi sto facendo male non mi sto facendo male non mi sto facendo quindi ho il colore ma è questo colore qua adesso me lo faccio venire mi faccio anche lo swatch come dicono loro ho imparato un sacco di ecco ho imparato un sacco di termini guardando questi video E' molto carina, molto bella da mettere sulle labbra Adesso apriamo un'altra casellina Vediamo un po' cosa c'è Un altro mascara Il pack è sempre uguale E' lo scopolino penso che sia uguale Andiamo a vedere Magari no No, è sempre normale No Sì, sì Con oggi ho paura Sì, anche oggi Oggi Guarda Oggi 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 C'è via che è data a mangiare I suoi biscotti anche Va bene Quindi abbiamo già trovato due mascara Bello questo Che però E' perché sono ben incassato Vorrei farvi vedere così Sì? Sì Ecco Ce l'ho fatto Ok Un Però poi devo nevarlo C'è un Fettina Ciglia Ciglia Sopra ciglia È fatto così E' corto e piccolino Molto molto carino Ok Andiamo avanti Andiamo qui Sì, certo Continuano Qui invece c'è un Rossetto Anche qui Il pack Guardate Cioè Veramente Veramente Bello Sto cercando di non romperlo Il colore E' questo Ok Non vi faccio lo swatch Perché Ma sì Ve lo faccio Mi dispiace Ok È scrivente Com'è niente E' andare sulle labbra Mi faccio la mano Ecco Adesso vi faccio vedere Veramente Molto 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 Bello Lipstick C'è scritto E basta Ovviamente Il colore Non c'è scritto Però Va bene E' questo Qui è lo swatch Del rossetto Molto Bello Ovviamente Che si adatta Con la matita Perché Non lo serve Fa Vediamo Nella prossima Calverillina Un altro Rossetto Ovviamente Non sono In ordine Quindi Voi non li troverete Così Due di seguito Via Fa cose strane Un altro Lipstick Questo Qui E' più scuro Adesso poi Ve li faccio vedere Comunque Vicini Che bello Ok Facciamo Lo swatch Vicino All'altro Così vedete La differenza Più o meno Diciamo Che questo Qua E' più Sul rosso E invece Quello Là E' più Sul colore Che piace A me Mamà No more Questo non mi serve Grazie Facelo a Giorgia Dall'altra parte No di lì No no Di là Passa di qua E niente Adesso Ve li faccio vedere Vi faccio vedere Prima Vicini Così E poi Qui c'è Lo swatch Di questo Qui Nuovo E sotto C'è Quell'altro Questo qui Un po' Più Sul rosso Mi sembra Ne apriamo Un'altra E c'è Un Porta Cos'è Un portachiavi Con il cerchettino Molto molto carino Poi Vediamo Qui cos'altro C'è Il tuo Sì Vediamo Cosa troviamo In questa Casellina Cos'è Qui c'è Un lipgloss Sicuramente Lipgloss Questo è bellissimo Questi degli erogoli No Mio Mio Non l'aprire No Il pack Il pack È sempre Molto Molto Bello Devo dire È veramente Bellissimo Così Mi piace E Il colore È questo Adesso ve lo faccio Vedere Diciamo Che è più Sul trasparente E Ha i brillantini All'interno Ecco Vedete Qui Si vede Cioè È molto Ambrato Molto Color Carne Forse magari Perché ho la pelle scura Però è molto Sembra quasi Trasparente Con i brillantini Molto 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 Bene Apriamo Un'altra Casellina Un altro Lip Gloss Ma questa volta Il colore È decisamente Più Appariscente E acceso Però vanno in linea Più o meno Anche con i rossetti Diciamo Ma no In realtà Poi sulle labbra Ecco La testata Bellissima Lipia Sulle labbra In realtà Poi È È chiaro Cioè Almeno Sulla pelle È poi Chiaro Cioè Non Più scuro Di quell'altro Sicuramente Ma Ed è Sul rosa Appunto È Diciamo Che sicuramente Si vedrà Molto Ma no Mi sa che si parla Tu oggi Sulle morde Sì Apriamo Quest'altra Vediamo Cosa c'è Qui c'è Una Che arrivo Una Mollettina È semplice Così A becco Doca Si chiamano Se non sbaglio Mi sembrando più A becco Di papera Di coccodrillo Veramente Comun Cocodrillo Passiamo Oltre Vediamo Qui Cosa c'è Oh Vabbè Un pennellino Per gli ombretti Molto carino Piccolo Molto carino Molto carino Poi Guardiamo Qui Un pennellino Un pennellino Un pennellino Un pennellino Scusate Un pennellino Un pennellino Un pennellino Un pennellino E poi Qui invece C'è Un pennellino Cine 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 Sono occhi Ok A casa mia A casa tua Non lo so Ma a casa mia Se non Ve li faccio Veli aperti Sono veramente Molto Molto carini E questi qui Sono i colori Che piacciono a me Molto Chiari Rosati Ombrati Apriamone Subito Un'altra E abbiamo Un altro Pennellino Per Gli ombretti Che è anche Un po' Appiccicato Quindi Si è un po' Storto Passiamo Ad un'altra C'è Un elastico Ne? Sono quelli che si usa Ma vai tirano i capelli C'è un elastico Di questi qui Fatti a molla Nuovi Di nuova generazione Ma a me Non piacciono Vediamo qui Anche questo è un elastico Fatto così A Cordino Rosa Diciamo più fucsia Con i brillantini Poi Vediamo qui Questa Grossa Grossa È sceso Da una parte È così Per pettinare Le sopracciglia Per Boh Non si sa cosa fare Ah già Giusto Per pettinare Le ciglia E invece di qua C'è il pennellino Molto carino Poi i pennellini Vanno sempre bene No? Sono utili Qui c'è Un altro elastico Ok Però questo qui è rosa Più chiaro Con i brillantini E andiamo avanti Si penso di sì C'è scritto Highlighter Sì È così Sì sì È illuminante Ok È molto 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 carino E anche qui Il pack È veramente qualcosa Di Fantastico Con questa fiocchetta In cima È veramente Veramente Bellissimo Poi Dobbiamo Sare attenti Qui c'è Una pettina Dalle manilone Vediamo Qui cosa c'è Un altro Però questo mi sa che è il blush Infatti c'è scritto Blush Cream È così Molto molto bello Qui il pack È come quello lì Dell'illuminante Molto 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 Bello Poi Le ultime Quattro caselline Qui cabono pezzi Dappertutto Allora Qui troviamo Un'altra Matita Questa qui È una Matita Per gli occhi E gli Ebrow Pencil È nera No Non è vero Mi sembra Marrone Carina Per cambiare Per non Perché È sempre nera Proviamo A vedere Cosa c'è qua Qui sono Altri due Ombretti Perché c'è scritto Ebrow Powder Anche qui Il pack È molto carino E adesso Io adesso Ve li faccio Anche questi qua Sono i colori Che piacciono Non mi chiamano Comun E poi qua Ce n'è un altro C'è C'è Vediamo già Cosa c'è C'è Troviamo Un'altra Matita Nella Penultima Casellina Di nuovo Però In questo caso È Nera E non c'è bisogno Di provarla Perché si vede Che ne è Però Proviamo Sì È molto Scrivente Ecco Ho già Sbeccato La punta E L'ultima Casellina Troviamo Sempre Degli ombretti Però Questa volta Sono In linea Con la tua moglie Scura Allora Questi ultimi ombretti Che ho trovato Sono fatti così Come vedete Sono sui Marrone No Non è tuo Questo È di Giorgia E Giorgia è tuo Tu Molto carini Un po' Scuri Per i miei Giorgia E Quindi Questo qui È tutto quello Che abbiamo Trovato Adesso Come vedete Vi li faccio vedere Tutti quanti E Sono veramente Molto belli Devo dire Il pack È molto 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 Carino E Mi piacciono Un sacco Ed è stato Un bel ritrovamento Devo dire Allora Fatemi sapere Sotto Nei commenti Se Fatemi sapere Sotto Nei commenti Se il video Vi è piaciuto Se questa tipologia Di video Vi è piaciuta Se ci sono Altri calendari Dell'avvento Magari C'è qualcuno Che vorreste Vedere prima Cosa c'è dentro Fatemelo sapere Come vi ho detto Il budget È Dai 40 euro In giù E Quindi Niente Aspetto Di sapere Cosa ne pensate Nei commenti Ricordatevi Di iscrivervi Al canale Se ancora Non l'avete fatto Di Attivare La campanellina Per non perdere I prossimi video E noi Ci vediamo Prestissimo Con un nuovo video Ciao Ciao